Mauro Collagreco è al confine con l'Italia, ha un tre stelle Michelin nuovissimo 2019, anche candidato 50 best, un anno particolare 2019, che dovrebbe essere una grande annata sicuramente, e fa l'italiano perché comunque dal nome effettivamente ci si aspetta che Mauro Collagreco parli l'italiano, a Bruxelles, di quale città? Di Guardiagrele, che poi è una città, forse ne avevamo già parlato, è un piccetto gastronomico sia di pizza che di ristorante, sono due posti che possiamo consigliare, non so se tu sei tornato, sì, c'è Villa Maiella che è un estelato magnifico della famiglia Tinori, fantastico, e c'è anche un posto che si fa una pizza incredibile, esatto, la Sorgente, ecco, mi fa piacere che lo conferma Mauro Collagreco, diciamo quasi il migliore chef francese del mondo, posso dire? Ci sono altri chef, ovviamente, molto bravi, in Costatura, anche perché mi stai in Italia, finiamo un'intervista se è possibile, grazie, merci, quindi bene, buona fortuna Mauro Collagreco alla Gomi.io, grandi ospite!